1999. Qualcosa sconvolge una tranquilla cittadina. Allo stato attuale delle indagini, nulla fa pensare che si tratti di un rapimento. Innocenza e colpevolezza. Non ti preoccupare, lo ritroveremo in me. Segreti inconfessabili. Cosa ha fatto tra le 9.15 e le 10? Sarà meglio ritrovarlo in fretta, prima che ne venga fuori un caso. Stiamo lavorando. Tu e io abbiamo un segreto. In prima visione assoluta, tre giorni e una vita. Domani alle 21.20, Rai 4, la guardi, la vivi.